Continuiamo a parlare di agricoltura, consorzio unico di bonifica, subito una task force per assicurare la stagione irrigua, dice Luca Lazzaro di Confagricoltura Puglia, che è in collegamento con noi e che salutiamo. Bentrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, è questa la strada da lei indicata per poter cercare di combattere queste criticità che si verificano a seguito della persistente siccità? Sì, è purtroppo sul consorzio di bonifica del centro-sud Puglia che assorbe i quattro consorsi di bonifica pugliesi del centro-sud della Puglia. E' partito in ritardo su questa stagione irrigua, sconta una carenza di programmazione, non solo di breve durata e quindi di immediata reazione rispetto a quelli che sono i problemi del settore agricolo e quindi la necessità di acqua, ma dall'altro ovviamente sconta problemi di investimenti, di mancanza di investimenti in maniera significativa che sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Quindi abbiamo chiesto una task force, è stato nominato un nuovo commissario, sono stati nominati dei subcommissari e abbiamo chiesto appunto la convocazione di un tavolo di programmazione sulle opere strategiche che dobbiamo portare avanti e che è necessario portare avanti. Ma contestualmente chiediamo come Confagricoltura una task force immediata, di reazione immediata rispetto a quelli che sono i problemi cogenti. Quindi lo sfruttare tutte le fonti di acqua in modo tale da dare la possibilità agli agricoltori di salvare quelle che sono le produzioni. Come sappiamo in Basilicata l'acqua nei bacini della Basilicata è veramente poca rispetto alla media degli anni passati, per cui ci sarà veramente da fare i salti mortali per far fronte a quelle che sono le esigenze dell'agricoltura. Oggi la partita dell'acqua è strategica per quanto riguarda il nostro paese, buttiamo oltre il 50% dell'acqua non solo in Puglia o nelle regioni meridionali, ma più in generale nel nostro paese. Proprio ieri abbiamo come Confagricoltura realizzato un incontro sull'acqua al Campidoglio a Roma e appunto si è approfondito rispetto a quelle che sono le esigenze dell'agricoltura. Si consuma tanta acqua, ne restituisce tanta in falda, per cui fino al 90-93% dell'acqua che consumiamo, per cui si assorbiamo tanto, ma consentiamo contestualmente la produzione di cibo sano, di cibo buono, cibo garantito e tuteliamo il paesaggio. Ed ecco perché è centrale oggi fare in modo che quell'acqua che è estremamente preziosa per noi non venga buttata via. E questo è assolutamente importante, quindi un piano di razionamento mi sembra di capire da parte di questa potenziale task force, anche perché i numeri a cui lei faceva riferimento nel 2023, rispetto al 2023 negli invasi, cioè nelle varie dighe che poi forniscono acqua anche alla regione Puglia, c'è il 46% di acqua in meno, quindi insomma è una situazione davvero molto critica. Queste discussioni sono su tavoli anche nazionali, Presidente? Sì, come dicevo ovviamente Confagricoltura ha messo al centro la tematica dell'acqua, io quando ho iniziato a fare il Presidente di Confagricoltura Puglia quasi sei anni fa ho dedicato la mia presidenza all'acqua, lo abbiamo posto al centro dell'agenda politica, abbiamo chiesto di metterla al centro dell'agenda politica, del Presidente Emiliano e gli abbiamo fatto firmare tra l'altro un contratto con gli agricoltori, proprio mettendo al primo punto la questione dell'acqua. Purtroppo non sono stati fatti investimenti in questa direzione, l'acqua che viene buttata a mare è ancora tantissima, per cui bisogna fare in modo che tutta l'acqua che abbiamo nella nostra regione, nella Puglia, sia utilizzata e sia riutilizzata. E su questo ovviamente noi chiediamo, proprio nell'immediato, la creazione di questa task force, sì per razionalizzare e quindi ottimizzare i consumi, ma anche far fronte a fonti che ci sono e che magari non vengono utilizzati, per esempio il fiume Tara, per esempio il fiume Lato, che oggi vengono utilizzati parzialmente e che con un impegno di una task force operativa si può far fronte a quelle che sono le emergenze di una parte della nostra regione. Gli ho citato solo due fonti rigue che sono nella provincia di Taranto, ma su questo ovviamente si può far fronte a 360 gradi, per esempio utilizzando i depuratori, dando una risposta immediata, perché se no qui rischiamo veramente di perdere la produzione anche quest'anno. Ricordiamo l'anno scorso abbiamo avuto la peronospora, quest'anno il grano è sotto gli occhi di tutti, quelle che sono le condizioni in cui i cerealicoltori stanno operando e per cui rischiamo veramente sul settore, in modo particolare dell'ortofrutta, che ha grandissimo valore aggiunto e assicura tantissima occupazione di fare danni significativi, importanti.